Ciao, carina! Allora Il dot è il libro, dai Torce MF e Spirit E io cosa porto? La mia presenza, dai L'UV e la fotocamera A meno con l'UV vedi qualcosa Bene Se no posso vedere solo 5 fotogrammi Esatto E poi se puoi torni indietro Già che ci sono prendo anche la palla, via Già che Il fatto è che qua senza microfono parabolico Senza niente Vedo duro Non abbiamo neanche l'accennino per accendere il falò Comunque fra arriverà il community day Dov'è il contatore? È acceso? Sì, sì, è acceso io Grazie Matti Ok, qualcosa si vede Ci provo Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? Dove sei? Proviamo le tende Dove sei? No Di chiudile tutte Poi le chiudo, sì Dove sei? È stato il suo umore Sono io che sto muovendo le tende No, 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 è qua Dove è qua? Dove c'è il... Dove è qua? Come si chiama questo coso? Generatore Ah Ok Aspetta, luce Qui Spirito di Celli Mi piscio E qua dici? Un po' più lontano, no? Che ha fatto? Dove sei? Sento continui rumori È partita anche un MF Tra l'altro adesso Sì, è vero Dove sei? Quanti anni hai? No, eh Vabbè, è definitivamente qui Il problema è che non abbiamo oggetti Quindi? E quindi piazziamo giù un libro Dot, videocamera Quello che abbiamo E aspettiamo un po' fuori E poi è una nightmare Quindi non avremo una delle prove In ogni caso Che non vedo Un pronte comunque Vedete che spengo un attimo la luce Entrate nella tenda Entrate, entrate nella tenda Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? C'è tanto smith dentro con noi? Eh, ma lì ci ho parlato E non ha risposto È cannolicchi Cosa vuoi che dico? Ciao Zenith Ciao Fede Dove sei? Quanti anni hai? Eh no O è uscito con voi Anche a sto giro? La lascio accesa qua Che si fa? Dammi un segno Dammi un segno Dai Spengo un attimo La luce qui Perché se no Non si vede Ok 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 E' quello interruttore Ah giusto Dammi un segno Di poleri accendi Giusto Ok Sono un attimo Dove sei? Quanti anni hai? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Già buono averlo trovato Dove sei? Quanti anni hai? Sei amichevole? Dove sei? Quanti anni hai? Sei amichevole? Dove sei? Niente spirit Allora senti questo Cos'è? Vabbè Non lo voglio sapere Aspetta però Dove sei? No Dove sei? Dove sei? Presa Spirit Wow Ok Ho colto l'occasione Di sapere dov'era Perché? Sta cacciando? No Tra i cose C'è il deogen No era un evento paranormale Ah tra le uscite C'è il deogen Cosa servirebbe Per il deogen? Mi ricordo più Spirit Libro E puntatore dot Ce ne abbiamo tutti Ma ha aperto sta tenda Il libro è già lì eh? Sì È lì davanti Vado a vedere Perché non ho la videocamma? Ah ok Non lo ha scritto Però Ha fatto un'interazione Alla tenda verde Quindi io sposto Videocamera e dot Alla tendina verde La scopro ora Che è il campeggio La metto tipo qua Questa la metto qui Ok E la luce qua Dove sarebbe? Là Ok Si sta toccando cose qua Non so Cambiano a vedere Eh non avevo niente per guardare Ho solo la torcia Vediamo se compare qui Ponte no Mi sa di noi dot Così a occhio No eh Ma non è qua Perché l'hai messo qua il dot? Perché sta facendo interazioni lì adesso Sarebbe da mettere lì anche il libro Mi son perso Sei davanti alla videocamera Arrivo Ok Eh a caccia Porca miseria No Ah Lo che sentito cancello Avrei una proposta Poi state la scelta Se portare almeno La sacca completa Di Five Nights at Freddy's Non so se la conosci Sì Ma sai che non mi piace Proprio lo stile Di quel gioco Cioè i peluche Robottoni Purtroppo non l'ho mai Non l'ho mai apprezzata Allora Ho recuperato il libro Anche l'MF Metti caso Faccio ancora cose qui Il libro lo mettiamo qua Dovrebbe MF Beh no La sfera non c'è Perlomeno Moroi o Catta Sta cacciando? No è un altro evento paranormale Però è qui È qui Dov'è la videocamera? Qua Cos'è che sto sentendo? Drive No No? Tipo Boh Rumore elettrico A me però Lo sfera Sfera Drive Così mettiamolo qua Così Ho perso il libro Porca Eccolo Ok grazie Lasciamo le cose così Proviamo a uscire Ma lo riaccendo il contatore qua E' spento? Sì Ah l'ha spento lui allora Sì 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 No si vedono Ti illumino così vieni Sì 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 Non lo so È per far arrivare lui Ok Sta cacciando? No Ok Speriamo che qua Si veda Anche perché Non abbiamo nient'altro Cioè La sfera Non l'abbiamo vista Da nessuna parte Quindi la escludo No Potrebbero essere le impronte Ma non Non riusciamo a beccarle Ok Potrebbe essere le MF Il libro La temperatura di congelamento Non posso escluderla Perché magari è quella Ah no però è vero Anche la sfera di luce Potrebbe essere una delle prove E non esserci Secondo me è il Deogen Cosa ne pensi di The Quarry? Allora Potenzialmente Conosco Supermassive Games E so Scusami Dry No no Finici pure No no dimmi dimmi Secondo me è il Deogen Sì MF no Impronte no Temperatura di congelamento no Sfera di luce no Eh no Il fatto è che comunque Una prova ci mancherà Quindi poi dovremo testare Come caccia Per essere certi Però almeno trovare la seconda No ma se togli tutte queste Ti rimane solo il Deogen Ma non puoi escludere prove Perché no? Perché siamo in Nightmare Ne manca una Non puoi escludere niente E E Il Deogen Il Il gioco Non è male in sé Potenzialmente So che Andando avanti Crescerà E ne varrà la pena I primi episodi Sono un po' introduttivi Io sento ancora Un rumore elettrico E Vado là Non ho Non ho Non ho granché da fare Qui È il PC Ma Io guarda Ho il Ho nelle cuffie Anche Il suono ambientale E non Ho due ventole ferme Addirittura Beato te Allora sono le tue Libro niente Ti fa proprio schifo Scrivere su sto libro Amico E Giochiamo con la palla Com'è che si chiama Sta cacciando Sì Può essere un ravenant Eccola È un deogen È un deogen Il deogen caccia così Ciao carina Ma che bella sei Ma qui c'è l'ora Com'è che ti chiami? Josephine Baker Ciao deogen Ma pensa Sì sì E il deogen è così Corre 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 E poi quando ti raggiungi Ma ce l'hai con me proprio Eh non mi caga Occhio a non avvicinarti troppo Che se si gira No no Sono Ho aperto anche la tenda Mentre passava di lì Hai visto? Eh già che c'era Dai vieni piccola È tutta tagliuzzata? Sì Ma scusa ma questo Fantasma non ti prenderà mai Esatto A meno che non sei in un vicolo cieco E quindi Era un deogen Veramente alla fine L'ho detto Va bene La partita dal secolo E niente Niente ragazzi Vi va a chiudere il canale Eh vabbè Dopo così tanto lavoro e impegno Porca miseria Lo hanno messo gratis Dalle Epic Games Che cosa ragazzi? Rocket League Sì Rocket League è free to play Il dry veggente Ma no Ma non è vero il veggente Basta togliere le prove Che non erano Che non si è riusciti a tirar su Ed è stato facile È vero È vero Bene E beh Non abbiamo altro da fare no? Evita che il fantasma Inizia a calcare No no Chiudi via Ciao No vabbè Non potevamo fare altro Obiettivamente Sembrava un pinguino Era un po' Un po' bloccata Un po' Boh Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Che Un po' Grazie a tutti.